Tutti nei ranghi, muoversi! Cosa succede? Ne so quanto tempo. Signori, è il nostro turno. Nell'ultima guerra mondiale... Avanti due terzi! Avanti due terzi! Un gruppo di giovani americani fu mandato a impadronirsi di un sommergibile tedesco. L'S-33 sarà camuffato da sommergibile tedesco e si incontrerà con l'U-Bot. Per impossessarsi di un segreto... ...che poteva cambiare il corso della guerra. Andrà tutto bene, vedrai. Via, 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 via! Prendete quella benedetta macchina e filate via. L'ho trovata! Credo di aver trovato il cifrario! Ma quando pensavano che la missione fosse conclusa... Ha successo, signori. ...persero la possibilità di tornare a casa. Tutti sotto a caperta! Intrappolati in un sommergibile nemico. Dobbiamo muoverci! È tutto in tedesco! Non riesco a bilanciare i tubi! In acque ostili. Arrivano! Immersione! Immersione! La chiave della vittoria è nelle mani di nove uomini. Quando capiranno cosa avete scoperto, manderanno tutte le navi disponibili a distruggervi. Bombe in acqua. Santa Maria, madre di Dio. Un film che parla del coraggio che fa vincere le guerre. Ho permesso di abbandonare la nave! Non ancora, capo! E dei momenti... Ci farà ammazzare! ...che cambiano la storia. Tra neanche un minuto capiranno chi siamo. Fuori o siamo morti! U-571.